Il libro ce le può dettare. Il libro ce le può dettare, noi possiamo prendere le lezioni, ecco Carlo, se vogliamo leggere qualcosa, persone come Sgarbi, che comunque parlano, scrivono, parlano, cioè chiaramente non con lui, che vogliono sapere qualcosa sull'arte italiana. Un ringraziamento di cuore al dottor Carlo Monta. Grazie. 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 Grazie a tutti.